... Sempre per conto mia, un po' perché lavoravo, un po' perché ero vidro, un po' perché stavo in vacanza non sono mai venuto e mi rendo conto di aver fatto una sciocchezza tutti gli anni perché è bellissimo stare qua, enti davanti ed è bellissimo per noi averti qui sinceramente grazie ragazzi che stavano aspettando un vero anzio un'altra bella, un pochettino per la presidazione allora io ti presento poi un po', maglietta bianca, ragazzi 13-15 anni e maglietta verde, 15-16, 15-17 la maggioranza, mi pare e poi ci sono anche i 40 po' più anziani, i ragazzi più 18, i maletta blu, i vecchi ma c'è anche quella di più bella, ci sono i tongs di dietro, sono i maletta verde, sono pochi come vedi ormai ma io oggi li ho chiesti anche di gialli e di rossi, di rossi ma quelli non vengono in questa cara perché non lo so di mangiare eccola, eccola allora prima di cominciare abbiamo un video che i ragazzi sono preparati per te welcome, benvenito, lo guardiamo e poi partiamo un po' con voi grazie